Giovanni il Battista era grande perché fedele alla sua vocazione e alla verità e per questo insultava i farisei che non avevano il cuore aperto. Grande anche se dubitava. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a casa Santa Marta, commentando il Vangelo del Giorno nel quale Gesù definisce il profeta il più grande tra i nati di donna. Definiva razze di vi per i dottori della legge, ma era comprensivo e pastore con la gente e battezzava anche i peccatori che poi si convertivano. Ma una volta in carcere nel momento più buio viene tentato e inizia a dubitare. I grandi si permettono il dubbio e questo è bello. Sono sicuri della vocazione ma ogni volta che il Signore le fa vedere una nuova strada del cammino entrano nel dubbio. Ma questo non è ortodosso, questo è erettico, questo non è il Messia che io aspettavo. Il diavolo fa questo lavoro e qualche amico anche aiuta, no? Questa è la grandezza di Giovanni. un grande, l'ultimo di quella schiera di credenti che ha incominciato con Abramo, quello che predica la conversione, quello che non usa metà parole per condannare i supervi e quello che alla fine della vita si permette di dubitare. Questo è un bel programma di vita cristiana.